Io lo so, lo so, lo so. Io voglio soltanto ringraziare Antonello e anche il direttore dei programmi del palinsesto di questo bellissimo teatro che io veni a trovare con la compagnia e mi innamorai perché veramente Antonello è una bomboniera. Quindi mi auguro che... per i grandi show di Antonello Rondi con la partecipazione di Luciano Sardetti. In sala c'è anche Massimo. Attenzione amici, tra poco andremo a votare. Attenzione però, è stanotte. Attenzione perché io, caro Antonello, ho sempre immaginato la gabbia dove si va a votare. Qui tre, spaccarli di legno e poi vedo che ci sta a mezzarete che si filma e c'è... Ebbene, per il posto, no? Quella cameretta ha tre pareti. L'ho sempre reputata uno spazio a luci rosse. erotico. E' come qua? E' così. Uno spazio a luci rosse. E' erotico. Tu dici, perché? E' un po' sferotico, attenzione. Perché dopo soltanto che avete votato, vi accorgerete che voi hanno avvisato il filosofizio.